portofino in lutto per la scomparsa di luigi punni miroli feste e castagnate sulla costa e l'entroterra l'entella riceve l'empoli nel posticipo di lunedì le insegnanti del centro studi discipline orientali di lavagna svelano i segreti del benessere buonasera telespettatori di tgt guglio apriamo questa edizione con una triste notizia che proviene da portofino questa notte alla clinica montalegro di genova si è spento luigi miroli che tutti chiamavano puni aveva dedicato tutta la sua vita alla ristorazione era diventato uno degli ambasciatori del borgo nel mondo ai tavoli del suo locale si sono seduti i più famosi personaggi della politica dello sport dell'economia ogni volta che silvio berlusconi scendeva in piazzetta si incontrava con lui tra puni e l'imprenditore era nata una grande amicizia puni lascia la moglie vanna e il figlio andrea noi lo vogliamo ricordare con alcune immagini girate nello scorso mese di marzo nel corso di un'esterna realizzata da giuliano fogola proprio davanti al ristorante puni adesso saluteremo il famoso puni luigi miroli grande ristoratore uomo di faglia ti è fantastico data mente ti è fantastico ma ciao 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 grazie ma lì ma te è inossidabile ti sui anni 85 85 uno dei più grandi ristoratori della della storia italiare ve lo ricordate quando faceva la pubblicità del doppio brodo star bastava bastava che cambiava il gusto qualcosa che è una bellinata ciao ciao bello stane bene ciao 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 notizia che riguarda il traffico ferroviario domani dalle 9 alle 17 è stato indetto infatti uno sciopero del personale di treni italia che comporta la cancellazione di quattro treni intercity sulla tratta milano la spezia si tratta del treno in partenza appunto dalla spezia alle 10 35 di quello delle 12 10 14 e 5 da milano centrale ed infine alle 16 e 38 dalla spezia ritorniamo in riviera precisamente a rapallo con la notizia dei banchi del mercato che rimangono sul lungomare vediamo i dettagli i banchi del mercato di rapallo restano sul lungomare vittorio veneto una decisione per la quale ringraziamo il comune disponibile ad ascoltare gli operatori e sensibili le loro richieste così dice enrico castagnone coordinatore di confesercenti tiguglio ieri si è infatti svolta una riunione presso l'ufficio del sindaco carlo bagnasco dalla quale è emersa l'intenzione dell'amministrazione di confermare l'attuale sede del mercato settimanale dopo una dettagliata esposizione dei fatti e valutando anche la proposta dell'eventuale spostamento in piazza cile richiesta da altre associazioni dice ancora castagnone l'amministrazione invece ritenuto di accogliere la nostra richiesta di mantenere il mercato in lungomare vittorio veneto nonostante la concomitanza con il cantiere per il depuratore si sono infatti valutate le problematiche già da noi sollevate inerenti alla disposizione e alla sicurezza del perimetro nonché l'inevitabile impatto sulla viabilità che avrebbe comportato lo spostamento del mercato in altra sede oltre a castagnone in rappresentanza dei confe esercenti erano presenti il funzionario matteo pastorino responsabile anva per il tiguglio daniele mignacca per il comune oltre al sindaco bagnasco hanno partecipato gli assessori al commercio elisabetta rai e lavori pubblici arduino maini funzionario della polizia municipale fabio lanata e consigliere con delega la sicurezza valte cardinari per quanto riguarda la viabilità delle nostre strade provinciali viene segnalato un senso unico alternato sulla 523 del colle di centocroce tra il chilometro 87 e 520 e il chilometro 87 e 600 nel territorio comunale di castiglione chiavarese il provvedimento sarà in vigore fino al 20 di ottobre è stato adottato dalla città metropolitana su richiesta dell'impresa i tascavi di carasco per la sostituzione di una condotta idrica anche in questo fine settimana non mancano gli appuntamenti con le sagre le feste e le castagnate noi siamo andati alla scoperta di quelle più importanti ecco servizio alla riscoperta delle tradizioni dei piatti tipici della valle sturla ecco spiegata la tredicesima edizione di agricasta la manifestazione che domani a borzonasca coinvolge tutto il paese si parte alle 12 e 30 al teatro di andrè con il pranzo a base di specialità locali quindi dalle 14 e 30 a cura di agriturismi della zona ci saranno le merende del contadino dolci e salate la musica con l'orchestra serena group mostre d'arte mercatini giochi per i bimbi laboratori albero della cuccagna passeggiata con gli asinelli e le esibizioni degli spunciaporchi con la loro musica di tradizione contadina distribuzione gratuita inoltre di rostie nei vari punti del paese e dalle 18 e 30 a piedicena in piazza devoto bus navetta gratuito dalle 12 e 30 alle 21 da mezzanago e borgo novo a uscio anche domani sagra d'autunno al campo sportivo si inizia alle 10 e 30 con una visita guidata al museo degli orologi quindi apertura degli stand gastronomici con menù a base di polenta spezzatino salciccia o formaggio castagnello e castagnaccio nel pomeriggio l'orchestra primavera il gioco bambini con le mani in pasta infine la distribuzione di calda roste a cura della locale protezione civile a san colombano certeno l'isagra con apertura stand alle 12 e distribuzione delle calda roste nel pomeriggio a cura del locale circolo acli intrattenimento musicale con l'orchestra luca parpagliola 49esima festa della castagna cicagna con raduno alpino la parte gastronomica partirà alle 12 e 30 con la classica polenta costine di maiale e salcicce alle 15 distribuzione di calda roste pomeriggio musicale con magnoli e messina tradizionale castagnata anche a chiavari a partire dalle 14 e 30 sulla piazza antistante la chiesa di ribasso è organizzata dalla paroca di san giuseppe dei piani di ri e dal comitato festa in piazza saranno distribuite calda roste frittelle di castagna dolci pannello e vino in programma giochi per adulti ragazzi con pomeriggio alietato dal suono delle giovani fisarmoniche rimaniamo in tema di appuntamenti ripreso a chiave la cura dell'associazione culturale castello il corso di cultura genovese giunto alla sua tredicesima edizione martedì alle 16 30 alla sala livellare di via del pino conversazione a buona parola antiche preghiere e invocazioni marinaresche a cura del cultore di studio studio locale cesare dotti passiamo allo sport lunedì il posticipo tra entelempoli allo stadio comunale in programma alle 20 e 30 vediamo le ultime novità lunedì sera alle 20 e 30 il posticipo entele a empoli al comunale chiuderà il turno della nona giornata di serie b una partita tesissima perché i toscani arrivano a chiavari con il fresco primato acquisito domenica scorsa seppure in coibitazione con palermo e forzinoni dopo aver liquidato il foggia nella gara casalinga al castellani il bianco celesti di castorina dal canto loro rispondono con una classifica che ha cominciato a farsi interessante grazie alle cinque gare di imbattività e alla porta di jacobucci che non prende gol da tre giornate l'entela in crescita dovrà fare i conti però con l'ex ciccio caputo capo canoniere del campionato con otto reti seguito dal compagno di squadra donna roma che direte ne ha segnate quattro in estate dove dopo essere diventato da tempo l'idolo dei tifosi che va resi l'attaccante ha voluto come noto lasciare chiavari l'empoli si presenta dunque col suo attacco atomico che ha segnato 17 gol in otto partite lunedì sera allenatore dei toscani rispetto alla gara con il foggia potrà nuovamente contare sui giocatori che erano stati impegnati con la loro nazionale solamente crunici non sarà della partita visto che dovrà scontare il secondo turno di squalifica castorina invece ha recuperato diav e luppi assenti domenica scorsa contro il brescia per gli amanti delle cronache le due squadre non si affrontano in campionato dalla stagione 71 72 erano i tempi della serie c e i toscani vissero al comunale per 1 a 0 per entela empoli il disegnatore morganti ha scelto l'arbitro antonio giua 29 anni di calangianus ma appartenente alla sezione di olbia ha esordito in b in questa stagione dove ha diretto tre gare a suo tempo il presidente degli arbitri marcello nicchi ha messo in risalto le sue doti pronosticandogli l'esordio nella massima sera nel giro di due anni giua avrà come assistenti villa di rimini e rossi di la spezia quarto ufficiale miele di no di nola rimaniamo in tema di sport gli insegnanti del centro studi disciplina orientale di lavagna ci svelano i loro segreti dei loro successi operano come nodo nella palestra di via carcara per quanto riguarda lo yoga e in corso genova per quanto riguarda invece le altre discipline vediamo i particolari renata tonin storica fondatrice insieme al maestro luca ghinolfi che suo marito del centro studi disciplina orientale di lavagna tantissimi anni di attività e di successo tantissimi veramente sì una vita praticamente sì le vostre discipline quali sarebbero io particolarmente lo yoga luca spazia proprio nelle arti marziali tantissimo perché ho iniziato con judo con karate e poi tutto il resto tutte le arti marziali praticamente da le ha fatte studiando proprio seriamente per tantissimi anni ognuna andando spesso all'estero sempre all'estero sì avete molte adesioni molto allievi nella vostra sia abbastanza sì in quanto non vorrei dirlo perché mi sembra che di mettere di buttarmi avanti comunque non abbiamo tutti due è un bel numero di allievi e la vostra sede dove si trova la nostra via carcara qui a lavagna vicino a piazza marini luca invece nella palestra comunale discipline che suscitano sempre molto interesse da parte delle persone certo sì sì anche perché sono molto adatte specialmente l'arte marziale giovani ma anche lo yoga perché questo yoga noi facciamo da dello yengar yoga è proprio adatto anche i giovani proprio proprio dedico anche allo sport per cui veramente molto forte tonico ma va bene ugualmente perché sappiamo poi cercare di adattarlo alle persone per cui va sempre molto bene per tutti con grande benessere e anche però allo stesso tempo elasticità ecco e poi c'è soprattutto l'attenzione l'attenzione della mente e con il corpo e ad esempio abbinata una buona respirazione un lungo tappe di avvicinamento per raggiungere il grado e la specificità di insegnante sì una grande preparazione come richiede la scuola a yengar yoga e sì ma bisogna comunque praticare da diversi anni per accedere al corso che è di una durata di tre anni e a firenze o comunque in varie città d'italia e sì cioè c'è nel corso c'è sicuramente una parte fisica ovviamente di asana ma anche una preparazione filosofica e una preparazione di anatomia in quanto la yengar yoga è molto serio e non lascia niente alla all'invenzione ecco una grande passione ma soprattutto poi una disciplina sportive che portano molto benessere psicofisico assolutamente sì nel senso che io lo pratico da molti anni e uno dei primi diciamo riscontri che ho avuto è stato sul sulla mia schiena perché io ho iniziato con problemi non dico seri però come tante persone quindi mal di schiena quindi diverse problematiche legate e quando iniziato già lo yoga questo tipo di yoga mi ha dato immediatamente dei riscontri positivi anche a livello psicofisico proprio ci si ritrova lavorando seriamente ad affrontare anche le difficoltà giornaliere le cose che come tutti abbiamo quando succede qualcosa in un modo molto più positivo quindi la possibilità di rinforzare sia il corpo che la mente quindi sicuramente un benessere totale quindi di soddisfazione anche a vedere poi le persone quando vengono anche le persone nuove come cominciano a lavorare dopo pochi mesi vedere proprio come migliorano come stanno meglio il sorriso la postura quindi è anche una grande soddisfazione per noi che vediamo avvicinarsi le persone e le vediamo stare meglio Andrea da passano sindaco del comune di framura protagonisti al ttg di rimini non soltanto alla fiera ma anche a questa bellissima serata di gala assolutamente sì l'importanza del comune di framura della comunità di framura degli operatori di framura di essere presenti alla fiera di rimini è la dimostrazione di come anche una piccola realtà possa fare sinergia e possa essere attore importante in una fiera appunto importantissima come quella di rimini stasera abbiamo avuto la fortuna di organizzare insieme all'associazione framura turismo insieme a liguria together insieme alla scuola di lavagna alberghiera di questo catering a disposizione a servizio di tutti quelli che sono gli operatori presenti all'interno della fiera di rimini circa 400 e questo è un motivo un tanto di confronto di orgoglio e sicuramente da queste iniziative possono nascere collaborazioni future per far sì che anche framura possa confermare il buon trend turistico che c'è in questi anni qua Framura un piccolo comune che però dice sempre la sua a fianco di comuni sicuramente più grandi come Chiavari, Sestre Levante e Lavagna un ottimo risultato, un'ottima energia come un piccolo comune può dire sempre la sua in mezzo a comuni sicuramente molto più grandi giusto sindaco? Assolutamente sì, confermo questa parte di Liguria, quella che va da Portofino alle Cinque Terre può ritagliarsi un importante spazio all'interno di quelle che sono le fasce turistiche internazionali e mondiali perché in questa parte di territorio si può veramente offrire tutto quello di cui ha bisogno il turista da quello che sono le più strutturate Chiavari, Sestre Levante e Lavagna a quelle che sono più ancora incontaminate tra virgolette più selvagge come Framura, Deiva Marina e Moneglia e Framura in questo contesto devo dire questa politica iniziata da qualche anno con anche importanti riconoscimenti quali l'entrata nei borghi più belli d'Italia, le certificazioni ambientali, le vele di lega ambiente ma anche bandiera blu si può ritagliare un importante spazio Scendiamo più nel tecnico, l'amministrazione comunale del comune di Framura come ha ricordato già da qualche anno investe molto nel settore turistico anche con investimenti importanti per quanto riguarda le infrastrutture Noi siamo una piccola comunità con pochi residenti dove abbiamo dei grossi flussi turistici fortunatamente la nostra industria da anni, da sempre è il turismo noi finalmente devo dire forse anche con qualche ritardo abbiamo capito che investire nell'industria turismo vuol dire far crescere una comunità, far star bene gli operatori, far crescere quella che è l'economia locale spero questo che si possa servire come esempio da traino anche nei confronti dei miei sindaci vicini che ha un ottimo rapporto, devo dire bisogna che crediamo tutti nel sistema turismo e nel fare sistema insieme Framura se oggi ha questa importanza forse anche mediatica forse anche fortunata devo dire grazie a questo credere, grazie agli investimenti ma può essere anche l'esempio e la dimostrazione di come anche una piccola comunità può avere un ruolo importante Quindi sindaco per riassumere Liguria Together che è questa nuova associazione culturale che racchiude realtà molto importanti che partono da Imperia per arrivare alla Spezia fa un po' da cappello a tutte quelle che sono le attività turistiche della nostra regione quindi comprensorialità, coordinazione e crederci tutti insieme per il settore turistico che è la risorsa più importante della nostra regione Sì, Liguria Together devo dire per me, ho avuto la fortuna di collaborare ormai da un paio di anni è veramente all'avanguardia, devo dire il presidente Andreoli è una persona molto positiva molto costruttiva con delle idee molto interessanti che io sposo in pieno perciò col mio piccolo contributo anch'io riesco a far parte di questo motore veramente, di questa macchina veramente gigantesca Prossimo appuntamento importantissimo in cui Framura ha chieduto dal primo momento senza mai tirarsi indietro il Meeting Swiss che si terrassa a essere levante Anche questo confermo, sì, quest'anno sarà il secondo anno Framura è un socio fondatore di questa bellissima iniziativa e questa bellissima esperienza sono convinto che quest'anno rispetto all'anno precedente ci saranno anche nuovi comuni che entreranno a far parte di questa, nell'organizzare questo importante Meeting Devo dire che è stato anche molto importante la gestione del catering in collaborazione con la scuola alberghiera di Lavagna i ragazzi si sono comportati veramente molto bene sia il catering in fiera che quella serata di gala direi che è riuscito davvero nel migliore dei modi proprio per questo li vogliamo ringraziare, sono ragazzi giovani che hanno lavorato tantissimo hanno lavorato bene sotto la supervisione dello chef e del metter Daniele Movilli, metter della scuola alberghiera di Lavagna una presenza importante al TTG di Rimini nella gestione del catering Siamo stati veramente onorati di poter far parte di questa gita, chiamiamola così, fra virgolette nella quale ci siamo impegnati nel fare il catering insieme a Framura e assieme a Liguria Together la scuola è sempre pronta a queste cose nel momento in cui può attraverso il nostro percorso scolastico essere a disposizione del territorio e portare per il mondo la nostra capacità di fare turismo Un'esperienza importante per questi ragazzi che saranno gli operatori di domani e che si misureranno col mondo del turismo Nella nostra scuola ci sono ragazzi che oggi come oggi lavorano già nei grandi alberghi usciti fuori da questa piccola scuola in fondo ma di grande qualità e lavorano anche in alberghi stranieri, così diciamo, nell'Europa e tra questi ragazzi ce ne sono alcuni che sono già veramente molto in gamba Nicola Visconti, amministratore unico della scuola alberghiera di Lavagna un'opportunità importante per questi ragazzi che cercano di affacciarsi al mondo del lavoro Direi proprio di sì, è l'occasione anche per ringraziare Liguria Together il suo presidente Andreoli perché ci ha coinvolto e ha dato la possibilità ai nostri ragazzi di fare un'esperienza sul campo vera e quindi si sono messi in gioco credo si con fatica ma si siano anche divertiti e ringrazio davvero tutti quelli che hanno organizzato questo evento le istituzioni, il comune perché davvero sentivamo poc'anzi le interviste dei sindaci creando una sinergia forte, si può aiutare anche attraverso la crescita delle competenze un territorio che ha tanto da dare nel turismo e avere giovani preparati che sappiano curare l'accoglienza del turista in tutti i suoi aspetti credo che sia un elemento fondamentale e come scuola alberghiera di Lavagna cerchiamo di portare avanti questa tradizione proprio per crescere questi giovani nelle competenze e crescerli come persone complimenti perché i ragazzi si sono comportati veramente in maniera egregia fa piacere vedere che i ragazzi giovani credano nella promozione del territorio nella promozione turistica della nostra realtà quindi non solo sinergia tra comuni e tra amministrazioni ma anche sinergia tra operatori e tra le scuole che formano poi gli operatori di un domani sì queste sono cose importanti che dice perché sicuramente la crescita dei ragazzi quindi mi fa piacere che come dire siano stati all'altezza ma la cosa bella è che questa esperienza continui e quindi questa sinergia con gli operatori che è quella che poi dà la possibilità a questi ragazzi di farsi anche conoscere da un punto di vista delle loro capacità possa davvero crescere nel tempo mi sembra che stia andando proprio in questa direzione e quindi come dire dare un contributo anche noi sotto il profilo diciamo della crescita culturale del turismo Francesco Andreoli, presidente dell'associazione Liguria Together TTG di Rimini, l'ennesimo grande successo un'ottima manifestazione, un'ottima sera, un'ottima giornata, un'ottima fiera possiamo solo che essere veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo Liguria Together sta espletando un compito molto importante cercare di promuovere la sinergia tra il pubblico e il privato Assolutamente sì e questo è il risultato di tutto quello che stiamo facendo insieme, in sinergia, pubblico, privato, operatori tutte le persone che credono in questo progetto di unità e di promozione del territorio nel farlo tutto insieme ripeto Questa domenica il nostro chapter farà il compleanno il sedicesimo compleanno per l'esattezza perché è nato nel 2001, nel settembre del 2001 e quindi sono ben 16 anni che siamo orgogliosi di portare questa bellissima scritta sui nostri gilets come potete vedere Portofino, cost chapter, forever Domenica mattina ci incontriamo al nostro punto di incontro il The Center che è qua vicino alla concessionaria partiremo per un giro sull'Aurelia semplicissimo per raggiungere la piazzetta ovviamente di Portofino dove abbiamo il permesso per arrivare giù con le moto fare la foto di rito dopodiché ci sposteremo a Santa Margherita che ci accoglieranno all'Anfiteatro Bindi posteggeremo le moto in centro in Bella Vista e poi il ristorante La Cambusa ci attende per un bellissimo pranzo e poter festeggiare questi nostri anni insieme tutti insieme, divertirsi e fare festa Anche questa edizione di TGT Guglio termina qui vi lascio alle previsioni del tempo per domani domenica 15 ottobre e per quelle relative alla giornata di lunedì l'informazione giornalistica torna come di consueto lunedì alle 12.45 e alle 14.15 con TGT Guglio Gente e in serata alle 19.30 alle 22.45 la consueta edizione di TGT Guglio condotta da Joel Cappello a tutti coloro che ci hanno seguito la più cordiale buonasera e buona domenica Previsioni del tempo per domani domenica 15 ottobre Cieli in prevalenza sereni a parte qualche rannuvolamento nell'interno venti a regime di brezza mare quasi calmo temperatura sulla costa da 15 a 23 gradi nell'entroterra da 7 a 22 gradi Previsioni per lunedì 16 ottobre passaggi di nubi alte venti deboli mare calmo temperatura sulla costa da 15 a 23 gradi nell'entroterra da 7 a 22 gradi